Allora, come vi dicevo, iniziamo adesso l'ultimo macro argomento del corso, come vi dicevo sui grafi faremo ancora un paio di lezioni, soprattutto sui cammini minimi, oltre che ovviamente esercizi. L'ultimo argomento del corso è relativo alle simulazioni. Prima di parlare di algoritmi di simulazione vi presento brevemente una collection che finora non abbiamo ancora usato, non abbiamo ancora sfruttato, parliamo di code e poi capiremo perché ci servono le code nel contesto delle simulazioni. Allora, una cosa che cos'è? Una cosa è una struttura dati che è stata pensata per, diciamo, essere abbastanza dinamica, molte delle liste, degli array list che facciamo e simili sono abbastanza statici, cioè tu lo crei, ci metti degli elementi dentro e poi questi normalmente rimangono, molto spesso rimangono. Mentre una coda è proprio pensata per aggiungere elementi e poi poterli togliere, ricordandosi in qualche modo l'ordine di inserimento. Quindi noi siamo abituati a fare la coda quando dobbiamo andare da qualche parte e tra persone ben educate la coda che conosciamo è una coda di tipo FIFO, first in, first out. Il primo che arriva è il primo che passa e si può implementare facilmente con una lista. Quando arriva una persona nuova la aggiungo in coda, quando deve passare una persona estraggo il primo. Quindi rimuovo il primo elemento e gli altri elementi della lista scaleranno in avanti di una posizione. Oppure ci sono liste tipo last in, first out, cioè l'ultimo che è arrivato è il primo ad uscire, che sono ad esempio l'anima della ricorsione. Quando noi facciamo chiamate ricorsive l'ultima che abbiamo chiamato sarà la prima a terminare e la prima che abbiamo chiamato lassù sarà l'ultima a terminare. Queste sono code che funzionano esclusivamente sulla base dell'ordine di arrivo degli elementi, l'ordine di inserimento degli elementi. L'ordine di estrazione dipende esclusivamente dall'ordine di inserimento. Però non tutti i problemi sono sequenziali in questo modo. Pensiamo ad esempio al pronto soccorso, quando voi andate al pronto soccorso c'è scritto in tutti gli angoli, in tutti i cartelli l'ordine con cui vi chiamiamo non è l'ordine di arrivo, ma è un ordine di priorità. Chiamiamo noi chi ha più bisogno di essere chiamato, chi ha più bisogno di essere visitato e visto. Quindi abbiamo anche qui una coda, nel senso che noi arriviamo nella sala d'attesa e ci mettiamo in coda, segnaliamo che ci siamo in qualche modo e aspettiamo di essere chiamati. L'ordine delle chiamate non ha nulla a che vedere con l'ordine degli ingressi, nulla. Non è direttamente legato all'ordine degli ingressi. Alla fine, sperabilmente, tutti quelli che sono arrivati vengono chiamati, quindi questa coda qua va avanti, scorre. Tu sai di essere in coda, sai che prima o poi ti chiameranno. Ma chiameranno non la persona che è arrivata da più tempo, posta una coda last in first out, non la persona che è arrivata da meno tempo, posta una coda first in first out, ma la persona che ha la priorità, la gravità, diciamo così, maggiore. E a parità di gravità probabilmente chiameranno chi è arrivato da più tempo, chi c'è dentro da più tempo. Ma qui c'è un criterio di estrazione che è diverso da quello temporale. In questo caso, diciamo così, astraiamo rispetto al motivo per cui chiamano prima te rispetto a lui e chiamiamolo genericamente la priorità che tu acquisisci all'interno della coda. Quindi diciamo che gli elementi all'interno di una coda hanno ciascun elemento a una priorità che determina l'istante in cui verrà estratto. Verranno prima estratti gli elementi che hanno una priorità superiore. E poi, come tutte le cose in informatica, l'ordine è un po' il contrario, nel senso che i numeri più, la priorità la possiamo approfittare tramite un numero e più piccolo è questo numero, più alto sarà la priorità. Quindi diciamo priorità 1, 2, 3, l'1 è la massima, la 2 è l'intermedia, la 3 è la minima. Ok? Quindi facciamo attenzione quando diciamo la massima priorità, la massima priorità non corrisponde al massimo valore dell'attributo priorità, ma al minimo valore dell'attributo priorità. Come facciamo a implementare una coda prioritaria di questo genere? Vabbè, una lista va sempre bene, no? Per tutte le stagioni. Quando arrivano una nuova persona la possiamo mettere in coda alla lista, poi quando è ora di estrarre una persona ci chiediamo qual è in questa lista tra le persone attualmente presenti quella che ha la priorità più forte e quindi il numero più basso? Allora potrei semplicemente a questo punto ogni volta andarmi a cercare la lista, navigo tutti gli elementi e trovo il minimo della loro priorità. Estraggo quello, la lista si accorcia e vado avanti così. Però ogni volta devo farmi una ricerca. alternativamente se non voglio fare ricerca ogni volta devo lavorare, devo mantenere la lista ordinata. Quindi l'idea, la seconda idea potrebbe essere anziché aggiungere quando arrivo una nuova persona, aggiungere in fondo, l'aggiungo nella sua posizione giusta. Quindi l'aggiungo già nell'ordine in cui penso che passerà. Quindi mantengo una lista ordinata facendo gli inserimenti in mezzo anziché gli inserimenti in coda. Però di nuovo per fare l'inserimento in mezzo devo prima trovare la posizione e poi spostare gli altri elementi, quindi alla fine è una complessità che mi richiede un numero di operazioni che proporziona la lunghezza della lista. Poi posso anche pensare a strutture dati più complicate come alberi binari eccetera, ma non sono sicuramente la soluzione più semplice. Allora, se andiamo a vedere nella libreria delle collection di Java, abbiamo visto interfaccia lista, su cui abbiamo parlato molto con RList e LinkedList. Abbiamo visto i set, abbiamo visto le mappe, un'altra interfaccia di livello alto è chiamata CodaQ, che ha due classi che la implementano. La prima è una LinkedList. Quindi una coda si può implementare semplicemente con una lista di tipo LinkedList e non di ArrayList, perché visto che tipicamente fa spostare gli elementi avanti e indietro, usare un ArrayList non è efficiente, invece con una LinkedList basta semplicemente spostare, togliere un elemento e gli altri non devo spostare. Una LinkedList può servire facilmente per costruire delle code ordinate in senso temporale, quindi FIFO o LIFO. Se invece voglio lavorare con delle priorità degli elementi, ho una classe nuova che si chiama PriorityQ. Adesso vediamo come funziona. Allora, in generale l'interfaccia Q, quindi sia per usare una lista come coda, sia per usare una PriorityQ come coda prioritaria, ha questi sei metodi. Cioè, alla fine cosa si può fare su una coda? Tre operazioni. Aggiungo un elemento, estraggo un elemento e verifico se c'è un elemento da estrarre. Quindi inserisco un elemento, è un add, tolgo un elemento, elimino un elemento, si chiama remove, e verifico se c'è un elemento, quindi se la lista non è vuota, in altre parole, verifico qual è il prossimo elemento da chiamare, c'è questo metodo element. Tre operazioni, ma sono sei metodi diversi, perché questi sei metodi si comportano in modo diverso nel caso in cui ci siano delle anomalie, quindi cerchi di inserire un elemento in una lista che ha già aggiunto la massima capienza, cosa che si può definire, oppure cerchi di estrarre un elemento da una lista vuota o di esaminare il primo elemento da una lista vuota. Allora, tre di questi metodi, nel caso in cui capiti una situazione anomala, generano un'eccezione, altri tre di questi metodi invece restituiscono un valore speciale, un null. Quindi dipende un po' da come vogliamo implementare il nostro codice. Se quando leggo l'elemento controllo che non sia null, allora posso usare il poll. E quindi nel mio codice, quando chiamo poll, devo sempre essere pronto al fatto che possa essere null, perché la coda è vuota. Se invece nel mio codice non voglio fare tutti questi controlli continui, chiamo il metodo remove e so che se dovessi mai estrarre un elemento da una coda vuota, mi genero un'eccezione, quindi gestirò l'eccezione, oppure mi accorgo che c'è un baco nel programma, perché l'eccezione non me lo aspettavo. Quindi sta a me scegliere. Sono assolutamente equivalenti dal punto di vista funzionale, l'unica cosa che cambia è come gestiscono le situazioni anomale. La differenza tra ad e offer è quella, diciamo così, minima, quasi trascurabile, perché quando è che ho un'eccezione cercando di aggiungere un elemento? Beh, solamente nel caso in cui costruisca una lista, una coda, di capienza finita. Dico, guarda, la mia coda non può avere più di 20 elementi, quindi per favore genera un errore se sto cercando di inserire il ventunesimo. Ma a meno che non faccia questo, che va fatto appositamente, usando le liste normali è sempre possibile aggiungere un elemento, quindi è rarissimo dover gestire l'errore nell'aggiunta di un elemento e quindi questi due li consideriamo quasi sinonimi e io tendo ad, ma perché mi ricorda l'add delle liste alla fine. Mentre nell'estrazione effettivamente pic va a sbirciare qual è il primo elemento e pol estrai il primo elemento. Mi suonano bene, meglio questi metodi ricordandomi che chiaramente se il primo elemento non c'è, devo gestire un null. La classe priority queue, che è quella con cui lavoreremo, non è l'unica ad implementare l'interfaccia a coda, la linked list l'abbiamo già vista, ma ci sono tutta un'altra serie di altre classi che implementano varianti più o meno strampalate dell'idea di coda. E queste varianti strampalate perché esistono? Ma perché le code sono molto spesso usate, noi non lo faremo, non arriveremo a quel tipo di programmi, ma sono molto spesso usate per passarsi informazioni tra parti di programma che vanno avanti indipendentemente in parallelo, tra thread separati di esecuzione o tra processi separati. Quindi se io ho un thread che fa certe elaborazioni, devo passare a un altro thread che fa altre elaborazioni, però non so cosa sta facendo l'altro in questo momento, quindi non è che posso dire senti un valore, prendilo subito, tipicamente ciò che faccio lo metto in una coda e l'altro quando può lo va a estrarre, quando gli è comodo. E quindi questi oggetti vivono a cavallo tra due o tre thread diversi, creando tutta una serie di problemi di sincronizzazione che sono risolti in modo diverso dai diversi tipi di classi. Quindi tutte queste classi qua sono solo utili nel caso in cui avessimo un ambiente multi-threaded con più thread paralleli e che volessero parlare tra di loro, sincronizzarsi tra di loro in qualche modo, cosa che noi non abbiamo e quindi non ci interessano. Invece potrebbe interessarci, di solito non l'abbiamo usata negli esercizi che facciamo ma non è complicato da capire, è un'altra struttura dati che si chiama DEC. DEC è un'abbreviazione, la contrazione di double-ended queue, quindi una coda a due teste, con due estremità. Un DEC è di fatto una coda che posso usare nei due versi. Quindi posso inserire in testa e inserire in coda indifferentemente e quindi estrarre sia dalla testa che dalla coda indifferentemente. Ok, priority queue invece è quella che ci serve per gestire appunto le code prioritarie in cui l'inserimento è un inserimento normale, l'estrazione avviene sulla base di un valore di priorità che poi dobbiamo capire come far specificare. Allora i metodi che abbiamo sono, vabbè, il costruttore, aggiungi, diciamo che usiamo add, add, offer, abbiamo capito che le eccezioni non ci fanno corsi problemi, abbiamo pick, remove oppure poll per darci il primo elemento e poi ci sono i soliti elementi size, ci sono risenti, ci sono clear, che sono quelli comuni a tutte le collection, ovviamente arreditano tutti i metodi di base di collection. Quello che vediamo è che la maggior parte, noi abbiamo visto quest'anno, vi ho risparmiato una lezione teorica, la notazione sulla complessità, però questo indica essenzialmente il tempo di esecuzione di ciascuna operazione, o di 1 indica tempo costante, quindi un'operazione atomica, semplice, o di log n indica un'operazione il cui tempo di esecuzione è proporzionale al logaritmo di n, n essendo il numero di elementi. Quindi sono tutti livelli di complessità molto bassi, sicuramente non è n come il tempo che mi servirebbe per leggere tutti gli elementi per capire qual è il minimo, calcolare un minimo e il massimo richiede leggere gli elementi tutti una volta e quindi ha una complessità pari a n, n elementi. Qui log n vuol dire che internamente lui riesce a capire qual è la posizione in cui aggiunge un nuovo elemento oppure qual è l'elemento che si trova in questo modo in prima posizione, quindi estrarre lui e riorganizzarsi la struttura dati, in un tempo inferiore a quello necessario per leggere tutti gli elementi. Detto in parole più povere, non ha bisogno di guardare tutti gli elementi e per capire chi è il minimo o per aggiungerne uno nuovo, perché internamente è una struttura dati più furba che prende il nome di Kip, di cui non entreremo nel dettaglio, è una sorta di albero parzialmente ordinato che ha essenzialmente una proprietà in cui ogni nodo ha due figli e i figli sono entrambi maggiori del padre. Punto. Non sono ordinati da sinistra verso destra, quindi vedete che qua ci sono dei valori, c'è un 99 qui, ma qua c'avevo 80, un 99 me lo aspettavo a destra dell'80, non importa, vale solo vedere figli con i padri. Però transitivamente se io ho la proprietà che dice che ogni nodo è maggiore o uguale del padre ed è minore o uguale dei suoi due figli, automaticamente la radice sarà il minimo, automaticamente, se è vero che per ogni arco vale questa proprietà. Allora basterà inventarsi degli algoritmi che sono quelli di gestione della struttura dati appunto chiamata Kip, per dire quando ho un nuovo valore dove lo posso mettere in questo albero in modo da mantenere la proprietà. Lo devo mettere in un posto in cui sia maggiore del genitore ed eventualmente minore dei figli. Per fare questo ci sono tre o quattro casi particolari, secondo che l'albero sia vuoto, che le foglie abbiano un figlio oppure due, insomma. Non entriamo nel dettaglio di questo. Però il metodo ad fa questo, trova una posizione in questo Kip, che è appunto una forma di albero con questa proprietà in più, in cui metto il nuovo elemento. Non è una struttura globalmente ordinata, non riesco a navigare quest'albero e trovare gli elementi dal più piccolo al più grande, è solamente il più piccolo, ha un lavoro da fare, ricordarsi sempre quello del più piccolo. E la seconda operazione è quella di estrazione, quando io cancello il 10, perché l'ho tolto, chi è il prossimo? Il prossimo sarà o 20 o 80. 20 rappresenta un sottoalbero di cui ovviamente lui è il minimo, 80 rappresenta un sottoalbero di cui ovviamente lui è il minimo. Allora, è banale dire che la nuova radice dovrà essere il 20, perché è più piccolo tra i due figli, però dove metto l'80? tolgo il 10, sparisce questo nodo, questo diventa una nuova radice e lui? Non è che lo posso buttare via. E quindi devo riorganizzare l'albero in qualche modo, in modo da mantenere il 20 come radice, mantenere la proprietà di ordinamento dei nodi e non perdere nessun pezzo di albero. Questi sono due algoritmi che sono implementati all'interno del LIP, dei due metodi di base del LIP. Noi non li studiamo, non ci interessa studiarli, ma capiamo che esistono e funzionano. Ecco, l'ingrediente che non abbiamo ancora visto invece è come fa la cosa prioritaria a sapere, questo è un esempio facile fatto con i numeri interi, ma in generale in una cosa prioritaria ci metteremo degli oggetti. Allora, questa cosa come fa a sapere qual è la priorità dei singoli oggetti? Allora, i progettisti del collection hanno pensato di usare lo stesso meccanismo che usiamo per il sorting, cioè in una coda prioritaria gli elementi verranno stati prima o dopo a seconda della loro proprietà di ordinamento. Quindi gli oggetti che inserisco in una coda devono implementare l'interfaccia comparable, che è quella che già usiamo quando dobbiamo ordinare gli elementi. Quindi devono avere un ordinamento naturale e implementare il metodo compareTo. Quindi oltre ovviamente a hash code e equals che servono per far parte di una collection, gli elementi di una coda prioritaria devono essere ordinabili. Quindi implementare il metodo compareTo. E che è il modo più semplice. Oppure, se non vogliamo che la coda prioritaria estragga gli elementi in ordine naturale, secondo l'ordinamento naturale, possiamo fornire una classe comparator separata, diversa. già come facciamo con il metodo sort. Ricordiamo, il metodo compareTo di una classe, l'interfaccia comparable, definisce quello che chiamiamo l'ordinamento naturale degli elementi, quello di default. Quindi si chiama collection.sort, ordine elementi secondo ciò che mi dice questo compareTo qua. Ma se io volessi, anche temporaneamente, ordinare gli stessi elementi con criteri diversi, ricordate la tabella, quando ho fatto una tabella, l'ordino per numero, l'ordino per nome, eccetera. Quindi la stessa lista può essere ordinata in modi diversi. Allora, l'ordinamento naturale può essere uno solo e se ho bisogno di ordinamenti aggiuntivi e quindi costruirò delle classi comparatori, separate, che hanno anche loro un metodo compare, prendono due oggetti e si dice qui al più piccolo. Quindi la priority queue può lavorare con l'ordinamento naturale o con un ordinamento diverso da quello naturale. Un commento su alcuni codici che vedo a volte scrivere. Alcuni di voi hanno l'abitudine di usare compareTo come sinonimo di equals. Per confrontare due oggetti, normalmente faccio oggetto, punto, equals, altro oggetto. E questo è true o false. Vedo alcuni a volte fare oggetto, punto, compareTo, altro oggetto, uguale o uguale a zero. Cioè se compareTo mi da zero, allora gli oggetti sono uguali. Che di per sé non è sbagliato. Il problema è che mentre le equals ce la devono avere tutti gli oggetti, il compareTo non è detto che ce l'abbiano tutti gli oggetti. Perché compareTo la possiamo definire solamente se abbiamo un criterio di ordinamento definito. Ci sono oggetti che di per sé non sono ordinabili, non sono orientabili. Pensate che se avete la coordinata in un piano cartesiano, quello vuol dire maggiore o minore tra due punti. Non vuol dire nulla. Mentre l'uguale o diverso, sì, lo posso sempre definire. Quindi l'insieme di oggetti per cui ha senso definire un comparable, ha senso definirli comparable, quindi per il quale ha senso definire un compareTo, è un insieme più piccolo rispetto agli oggetti per cui ha senso definire l'uguaglianza, che sono tutti. Ok, cosa ce ne facciamo di questa struttura dati? Ebbè, la usiamo come base per gli algodini di simulazione. La simulazione è un termine estremamente ampio. Noi ci occupiamo di un tipo specifico di simulazione che chiameremo simulazioni ad eventi discreti. E poi capiamo perché eventi e perché discreti. Qual è lo scopo? Noi finora abbiamo giocato a fare problem solving risolvendo problemi in modo ricorsivo. Costruiamo delle strutture dati e analizziamo su queste strutture dati per cercare una soluzione migliore a una determinata domanda che ci siamo fatti. A volte però non sempre si può modellare l'intero sistema e sicuramente molto spesso non si possono provare o trovare delle soluzioni esatte, sempre. E allora non potendo avere una macchinetta in cui schiacci un bottone e ti dà la soluzione ottima, e quindi segui quella, e tu devi fare delle scelte strategiche e analizzare degli effetti di scelte strategiche che farai. Questo vuol dire che devi una possibilità, una possibilità di inventare a caso, oppure andare all'intuito, ah cosa faccio? Boh, invento. Oppure per esperienza ho sempre fatto così, mi è sempre andata bene. Ma se uno vuole avere, diciamo così, uno stile anche strategico-gestionale un pochino più serio, tipicamente quello che fai è immagini degli scenari e vai a capire quali potrebbero essere in questi scenari le conseguenze delle scelte che hai fatto. Come fai a sapere la conseguenza rispetto a una scelta? Ti costruisci un modellino semplificato di quello che può succedere e vai a vedere qual è la conseguenza, diciamo così, calcolata da questo modello. Modelli che non è detto che siano modelli matematici complicatissimi, per cui poi ritrovo le equazioni per capire cosa succede, ma possono essere anche semplici modelli di simulazione. Io, non so, devo costruire, facciamo anche una cosa molto semplice, devo costruire degli ascensori, ok? C'ho quattro ascensori che devono portare su un palazzo di venti piani. Che algoritmo devono usare questi ascensori alle chiamate dei vari utenti? Questo è un problema che è studiato anche dal punto di vista teorico, ma immaginiamoci di essere nei panni di chi deve scrivere il software di questo algoritmo. Allora, vogliamo chiaramente minimizzare il tempo di percorrenza, ma anche il consumo di energia, che tra l'altro sono due cose diverse e non sempre vanno a pari passo. Come faccio? Potrebbero venire in mente tanti algoritmi possibili di gestione di questi. Qual è che va meglio? Allora, o mi imbarco in un lavoro teorico in cui provo a scrivere delle equazioni per modellare, ok, se io uso un algoritmo di un certo tipo, allora farà così e cerco di dedurre statisticamente il tempo di attesa medio o l'energia consumata media, quindi devo essere bravo a fare matematica e statistica, oppure costruisco, implemento e poi paciocco, poi gioco, poi modifico e misuro sul campo. Non sempre chiaramente posso costruire per poi vedere, ma guardi non andava fatto così. Ma anche una cosa più semplice, ho detto quattro ascensori, ma magari ne bastano tre per il tipo di utenza che mi serve, o magari me ne servono sei per il tipo di utenza attesa. Quante volte costruiamo un sistema e poi costruiamo pure, ci capita di essere utenti di sistemi che sono palesemente dimensionati male? Dice, ma per il numero di gente che ci sono non potevate mettere due sportelli in più e non ci abbiamo pensato quando l'abbiamo creato o risposte di questo genere. Allora, noi proviamo a darci qualche piccolo strumento per aggiornare su queste cose. Nel momento in cui dobbiamo prendere una scelta, il cui valore ottimo, migliore, non è evidente e non è calcolabile in modo esatto, è come possiamo fare? Esploriamo, diamoci degli strumenti per esplorare delle alternative. Oh, questo si fa comunemente, penso in Excel, tu ti fai un foglio di calcolo che descrive più o meno la situazione e provi a giocare con dei numeri e vai a vedere i risultati. E alla fine ti costruisci nella tua mente un'idea di come funziona questo sistema, di quali sono le variabili più importanti e di quali sono i loro valori che più o meno abbiano senso. Quello non sarà mai un metodo esatto di calcolo, ti sei fatto un modellino semplificato della realtà che tenga conto delle variabili che vuoi controllare. E poi metodi tipo what if, proviamo così, proviamo a cambiare e vediamo il risultato. Sulla base di queste esplorazioni sarò poi io a decidere quali sono i parametri, non possiamo dire ottimi, non possiamo dire ottimali, diciamo migliori dal mio punto di vista, che però sicuramente è sempre meglio rispetto a inventare. Quindi la simulazione, dicevano, è il processo di costruire un modello di un sistema reale e fare esperimenti con questo modello, costa molto meno che non fare esperimenti con un sistema reale, con lo scopo o di comprendere meglio il sistema o di valutare quale sia la più appropriata tra varie strategie che permettono di far funzionare il sistema stesso. Quindi in qualche modo è una parte, una componente informatica, algoritmica che si basa su un modello, sull'esecuzione di un modello. Non mi basta descriverlo con una serie di equazioni questo modello, deve essere eseguibile, perché io devo poter dire, ti metto dentro questi dati, vado a vedere quali risultati ottengo. E quindi ho il mio algoritmo e l'utente, l'utente dà degli scenari, imposta uno scenario, diciamo che facciamo finta che in questo palazzo abitino 50 persone. Ok, quante volte prenderanno l'ascensore al giorno? Quattro volte? Due volte? Otto volte? Dobbiamo inventarci dei parametri che descrivano lo scenario. E poi avremo un algoritmo che simula gli ascensori che vanno su e giù sulla base di un tasso di arrivo statisticamente plausibile delle persone. Ovviamente bisogna tenere conto che in certi orari arriveranno con una frequenza maggiore, cioè alle 8 del mattino tutti escono alla stessa ora, mentre magari alle 11 del mattino non c'è nessuno che va su e giù per gli ascensori. E quindi il modello, in qualche modo, il possibile comportamento del sistema mi darà certi risultati. E lo stesso utente che ha definito lo scenario, osserverà questi risultati. E poi dire, va bene, adesso invece proviamo, non facciamo finta che le persone prendano più lo ascensore, lo prendono di meno, lo prendono più a salire che non a scendere. Scenari diversi. Allora vado a modificare i parametri del modello e avrò risultati diversi. Il modello non mi può prevedere nulla. Non è che mi dice, guarda la sua soluzione è questa oppure succederà esattamente questo. Il modello mi calcolo esattamente ciò che gli ho chiesto sulla base delle approssimazioni che gli ho dato. Qui ovviamente dobbiamo lavorare con delle approssimazioni sempre molto grandi, molto ampie. Ma perché vogliamo che questo lavoro sia una fase della progettazione e poi dopo andremo avanti? Quindi non possiamo impazzire a fare dei modelli iper sofisticati. dei modelli che siano sufficienti per capire ciò che voglio. Quindi queste simulazioni, questa logica della esplorazione di progetto attraverso strumenti di simulazione, come vi dicevo, si può fare semplicemente già anche con Excel. L'avete fatto sicuramente, il foglio Excel con i vostri voti e dicete adesso se prendessi 20 a quest'ora quanto viene la media, no? Ecco anche quello è uno strumento di simulazione. Hai un risultato, hai dei dati di partenza, hai un modello di calcolo, in questo caso è banale, è semplicemente una media e provi varie soluzioni. Beh allora, senti, rifiuto questo, prendo l'altro, eccetera, vi fate la vostra strategia. Ok? Ovviamente ci sono anche sistemi molto più complicati. Noi quello che faremo è provare a costruire dei semplici simulatori per problemi, diciamo così, semplicini in Java, con certi vincoli. Certi vincoli soprattutto legati al tipo di modello che riusciamo a costruire. Noi non vogliamo andare a fare modello meccanico con tutte le forze o cose che possono essere, diciamo così, calcolate in modo analitico e che richiedono delle potenze di calcolo spropositate, no? Simulatori ad elementi finiti, di strutture meccaniche o civili, sono al di fuori della nostra portata. Noi vogliamo costruire un simulatore per dei piccoli modellini discreti, no? Discreti nel senso che lavora su un numero di variabili con valori, appunto, discreti, cioè valori distinti tra di loro e non con valori continui. Quando io faccio dei modelli di simulazione, che ne so, immaginate i vostri colleghi di ingegneria meccanica, no? Che costruiscono una struttura di un autoveicolo e poi devono avere dei modelli di calcolo per capire esattamente come questo reagisce alle forze le sollecitazioni in sterzata, in frenata, eccetera, eccetera. Allora gli fanno un modello meccanico molto dettagliato del veicolo e poi c'è un calcolo enorme, che poi al fine dentro ci sono le leggi di Newton, ma su un numero di elementi molto elevato. E questo è un modello continuo perché si basa su un asse dei tempi che è continuo, cioè in ogni istante questo veicolo è sottoposto a delle sollecitazioni e risponde in tempo reale a queste sollecitazioni. Ok? Allora lì dentro ovviamente quando abbiamo un sistema che evolve nel tempo continuo stiamo parlando di equazioni differenziali e quindi sistemi che siano in grado di risolvere o simulare o approssimare la soluzione di sistemi di milioni di equazioni differenziali. Ok, quello è un mestiere, ok? Noi non entriamo in quel campo, entriamo in un campo molto più semplice, il nostro ascensore. Uno lo chiama, l'ascensore può essere fermo, in movimento, fermo al piano 1, fermo al piano 2, fermo al piano 3, in movimento in salita o in discesa. Può essere stato chiamato da una persona, da 2, da 3 e possono esserci al piano 5 delle persone in attesa oppure no. Ecco, queste sono le variabili in gioco nostre, no? Sono le variabili discrete, sì, no, 1, 2, 3, chiamato, non chiamato, a quale piano è stato chiamato, dei valori distinti, discreti, staccati, non c'è, non ci interessa un'evoluzione continua nel tempo, cioè quando l'utente è salito qual è l'accelerazione in partenza dell'ascensore, quello sarà il compito del controllista che fa in modo che l'ascensore parta senza strappare i cavi, no? E abbia la forza sufficiente per sollevare 4 persone o 6 persone, eccetera. Quello è un altro compito, il controllo fine. Noi stiamo lavorando sulle scelte strategiche, allora ci serve un modello, ci basta un modello semplificato. Qual è la capienza dell'ascensore? 4, 5, non cambia nel tempo. Ok, l'ascensore sta salendo, a me serve una stima del fatto che per salire di 4 piani ci mette magari 40 secondi. Non mi serve nel tempo, istante per istante, qual è la sua posizione, la sua velocità, la sua accelerazione. Ok? Lavoriamo con dati più, diciamo così, macroscopici, più approssimati, con modelli più semplificati alla fine e ci portiamo dall'evoluzione nel tempo, dall'esempio che facevamo prima del pronto soccorso. Non mi interessa sapere qual è la posizione di ogni singola persona all'interno della sala d'aspetto, mi interessa sapere quando è arrivato, cosa aveva e quando passa. E magari l'altro pronto soccorso per poter capire quando passa, capire quanti medici ho, che cosa stanno facendo, se sono liberi, occupati, eccetera, eccetera. Anche lì informazioni discrete, quanti ne ho, sono dei conteggi, sono degli istanti di tempo, non è un'evoluzione continua. Quindi il primo fortissimo limite che ci diamo, limite, insomma, scelta che facciamo è di lavorare solamente con simulazione di sistemi che sono modellabili in modo discreto. Poi all'interno di questi sistemi posso avere dei sistemi statici o dinamici, un sistema statico è un sistema che si comporta sempre nello stesso modo, indipendentemente dal tempo. Cioè se faccio la simulazione fingendo che la simulazione rappresenti la giornata di oggi mi dà un risultato, se fingo che la simulazione rappresenti la giornata di lunedì prossimo mi darà lo stesso risultato, perché il tempo, nel senso della data, dell'ora, eccetera, non ha influenza. Nel nostro caso dei sensori il sistema non è dinamico perché il sensore si comporta sempre nello stesso modo a qualunque ora del giorno. Mentre ci fossero dei sistemi magari che dipendono, pensiamo a un sistema di gestione dell'energia, e dipenderà, anche con le energie rinnovabili, dipenderà dal sole che c'è fuori. E quindi il comportamento che il sistema oggi e quello che avrà domani è diverso, perché le condizioni meteorologiche sono diverse. E quindi ogni volta che rifaccio la simulazione vive in un contesto che cambia dinamicamente e quindi i risultati possono essere diversi. Anche l'altra differenza è questa che è indicata qua, un sistema, un modello può essere un modello deterministico se a parte l'input mi dà sempre gli stessi output. Quindi può essere anche un sistema dinamico in cui cambiando il giorno cambiano i risultati, ma nello stesso giorno se simulo 30 volte lo stesso giorno un sistema deterministico mi dà 30 volte lo stesso risultato. Invece il sistema stocatico è un sistema che contiene al suo interno, nella sua evoluzione, della randomicità, degli elementi casuali. Questi elementi casuali possono essere nel tasso di arrivo delle richieste, cioè io nell'esempio delle sensorie non ho l'inculino che ho anche l'inculino che tutte le mattine alle 8.21 precise preme sempre lo stesso tasto allo stesso piano. E quello è prevedibile in modo deterministico. Però a parte queste persone ipermetodiche normalmente io devo essere pronto a una richiesta che so che avrà una certa densità maggiore o minore temporale e quindi non so esattamente quando arrivano le persone, ma so che mediamente ne arriverà una persona ogni minuto e quindi avrò una distribuzione statistica dell'arrivo dei nuovi utenti, delle nuove richieste. Oppure posso avere, quindi la stocasticità può essere negli input oppure può essere nel modello stesso. Anche se gli input fossero esatti magari ci metto un tempo imprevedibile. Supponiamo di conoscere esattamente quando arrivano le persone all'interno del pronto soccorso, sapere esattamente che patologie hanno ma magari il tempo che serve per curarle e che quindi il tempo che serve per chiamare la persona successiva è variabile. Perché? Può esserci una gravità diversa delle cose, delle patologie. Quindi chiaramente un modello stocastico può essere più flessibile, anche più rappresentativo perché noi nascondiamo dietro la stocasticità l'ignoranza di alcuni dettagli. Per assurdo se noi in una visione meccanicistica del mondo se noi conoscessimo esattamente tutti gli input, esattamente tutti i meccanismi di funzionamento non ci sarebbe nulla di casuale al mondo. Potremmo forse farlo, ma magari non ci conviene, ci costa troppo andare a modellare troppo in precisione tutto. Allora ci accontentiamo di approssimare alcune cose, più o meno questo flusso di persone sarà questo. Non mi interessa esattamente quando arrivano, non potrò mai prevederlo, non potrò mai controllarlo, ho bisogno di un sistema che si adatti a una variazione di questo genere. Quindi i sistemi che andiamo a simulare, i nostri algoritmi sono algoritmi di simulazione ad eventi discreti, stocastici o deterministici. Un sistema di eventi discreti, abbiamo visto prima un sistema discreto alla fine va a contare solamente alcuni valori possibili delle variabili in gioco e una di queste variabili in gioco, la più importante, è ovviamente il tempo, noi stiamo simulando l'evoluzione di un sistema nel tempo. Allora quando stiamo andando a scegliere alcuni istanti di tempo discreti, questi istanti di tempo li chiamiamo eventi, cioè sono gli istanti di tempo in cui succede qualcosa. Noi stiamo immaginando dei modelli che sono essenzialmente statici, non succede nulla, tranne alcuni istanti di tempo in cui succede qualcosa. Quindi il mio ascensore è lì, a un certo punto qualcuno premia un bottone, a un certo punto l'ascensore arriva al piano 7. Allora l'ascensore arriva al piano 7 è un evento che cambia le cose, sulla base di questo evento possono succedere le cose, cioè chi l'abbia chiamato sale oppure chi c'era sopra scende o cose di questo genere. Quindi può diventare libero oppure non più libero. Cambia lo stato del mondo che sto simulando, ma cambia solamente in quel momento. Poi non è vero che il sistema non stesse facendo nulla negli istanti di tempo precedenti, perché se in un certo istante di tempo l'ascensore è arrivato al piano 7 vuol dire che negli istanti di tempo precedenti stava salendo o scendendo, si stava muovendo. Ma a me i dettagli di questo movimento non mi interessano. Quindi io scelgo di essere cieco, di non considerare nulla di ciò che accade al sistema tra un evento e l'altro e concentro tutta l'informazione, tutta l'evoluzione del sistema in alcuni eventi specifici che corrispondono ai momenti in cui, lo dico così informamente, succede qualcosa di interessante. Saremo ovviamente noi a decidere che cosa è interessante, quindi capire quali tipi di eventi avvengono in un sistema. Quindi il nostro sistema evolverà grazie a un elenco, una lista di eventi che si succedono l'un dopo l'altro, con una certa correlazione tra questi eventi, nel senso che se qualcuno preme il tasto per chiamare l'ascensore, evento prechiamo l'ascensore all'ora 10.01 e questo causerà in qualche modo sulla base del funzionamento del sistema che l'ascensore prima o poi alle 10.03 arriverà a questo piano. Quindi quando il sistema valuta le conseguenze di un evento, queste conseguenze molto probabilmente creano altri eventi che si dovranno verificare in futuro. Poi, so se arriverà esattamente a 10.03 oppure arriverà tra le 10.03 e le 10.05 in un modo randomico, questo fa parte della modellazione del sistema. Però quando io mi chiedo cosa succede a questo sistema quando accade questo evento, cioè viene chiamato l'ascensore, la risposta è quasi sempre cambiano alcune variabili all'interno del sistema e devo prevedere che nel futuro, come conseguenza di questo evento, ci saranno nuovi eventi. Quindi questa lista di elementi è qualcosa che si autogenera, si autocontinua. E questi eventi raccontano la storia di come si comporta il sistema in risposta alle sollecitazioni e alle richieste esterne. Se io sto simulando il sistema con più ascensori, allora avrò il tizio che chiama l'ascensore al piano 1, l'altro lo chiama al piano 4, eccetera, e poi prevederò ovviamente che questi vari ascensori arrivino ai vari piani e arriveranno in momenti diversi. Ovviamente per mantenere la causalità della simulazione io dovrò elaborare questi eventi in ordine di tempo, in ordine del tempo previsto in cui si verificheranno questi eventi. Quindi se quello del primo piano preme, chiama, quello del settimo piano, premia il bottone per chiamare, non è detto che l'ascensore arriverà prima a quello del primo piano e dopo a quello del settimo per chi ha chiamato dopo. Arriverà sulla base del tempo previsto, sulla base della posizione attuale. Quindi vuol dire che l'evento che io creo in risposta alla prima chiamata avrà un tempo previsto di accadimento, l'evento che creo in risposta alla seconda chiamata avrà un tempo previsto di accadimento e questi tempi potranno essere ordinati in qualunque modo. Ovviamente li dovrò andare ad elaborare questi eventi, quindi valutare le loro conseguenze in ordine di tempo crescente. Questo è il motivo per cui usiamo una coda prioritaria. La coda prioritaria mi permette di gestire un elenco di eventi da elaborare, ma ogni volta che devo considerare il prossimo evento dovrò sempre considerare quello che accade per primo, che accade nel mio tempo simulato chiaramente, nel mio tempo immaginario. E quindi ho una struttura data in cui so che succederanno cose e le butto dentro la coda. Poi sarà la coda a tenerle ordinate e quando chiedo la coda ok ho finito di elaborare un evento, qual è il prossimo? Dice guarda il prossimo elemento è tra 7 minuti e si tratta di questo. Prima non ci sono altri eventi. Ciò che è successo nel frattempo tra adesso e 7 minuti simulati non ti interessa, abbiamo deciso che non ci interessa. Poi dopo i 7 minuti ci saranno altri 100 eventi, ma prenderemo poi uno per volta. quindi un sistema di simulazione degli eventi discreti basa l'evoluzione del sistema su una coda prioritaria di eventi ordinata, dove la priorità di ordinamento è data dal tempo, tempo simulato chiaramente degli eventi stress. Allora sulla base di questo principio poi cerchiamo di capire come organizzare un programma che gestisca queste cose e poi ovviamente che proviamo a fare un esempio anche di un primo semplice simulatore che applichi questi principi. Adesso possiamo permetterci un po' di pausa e poi entriamo nel dettaglio, nella costruzione di questi tipi di simulatori.